buona giornata amici pronti per la rossegna stampa di fano tv cominciamo una nuova settimana insieme oggi è lunedì 25 settembre 2023 vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanaco del giorno e vediamo che il santo è san cleofa san cleofa fu discepolo di gesù insieme ad alfeo incontrò gesù risorto sulla strada di emmaus lo riconobbero nel momento di spezzare il pane al forestiero cleofa disse resta con noi perché si fa sera sono parole famose famose parole che hanno un significato oltre a quello letterale e quella sera assume il significato di buio di avversità di difficoltà resta con noi e non avremo più timore e questo è un po il senso di quelle parole san cleofa un santo che forse non conoscono molti ma che è presente nel vangelo anzi negli atti degli apostoli anche perché poi insomma la situazione si prosegue vediamo ora le previsioni del tempo c'è un tempo incerto questa mattina sulla nostra provincia provincia di pesaro urbino ma anche un po su tutte le marche avvio di giornata con nuvolosità irregolare residui locali piovaschi rapido miglioramento dovrebbe così succedere nel pomeriggio e nella sera le temperature sono calate rispetto ai giorni scorsi la minima 19 la massima 23 e soprattutto la massima quella che è calata i venti sulle coste espireranno con una tensione media da nord così come nell'entroterra il mare è mosso molto mosso direi queste le previsioni del tempo quindi noi apriamo oggi anzi non apriamo ma guardiamo la prima pagina del resto del carlino dove c'è il sunto di tutte le notizie della regione marche noi partiamo da quella di dalla provincia di pesaro urbino dove campeggia la foto dell'onorevole mirco carloni che dice svolta alimentare no troppo euro follie mirco carloni è il presidente della commissione agricoltura della camera e oggi va a zagabria va a zagabria e un po spara contro il cibo sintetico e nutri score c'è un summit con gli altri con gli altri paesi membri ma carloni difende un po il made in italy ma difende soprattutto il cibo genuino quello reale quello non costruito appunto in laboratorio le altre notizie chiuso il centro che ha salvato mia figlia dall'anoressia la denuncia di una mamma e poi abbiamo tutta una serie di cambiamenti che il viscovo che il vescovo salvucci il vescovo di pesaro ha fatto per quanto riguarda la sua diocesi e ha un po mescolato le carte rivoluzione nelle parrocchie ecco le comunità pastorali passiamo ad ancona vediamo la foto di mattarella che porge le sue condoglianze alla moglie napolitano a clio che è originaria di chiaravalle e poi il ritorno della mancinelli della sindaca di ancona prima uscita pubblica dell'ex sindaca ma ha parlato solo di storia agenti insultati filma i poliziotti e poi li deride sui social è stato denunciato a macerata un incidente stradale schianto con moto contro un'auto parcheggiata è grave un centauro di 32 anni la quarta corri a damo una bella iniziativa di carattere sportivo ma anche di carattere sociale tutti di corsa col cuore in mano 41 nuovi iscritti tra i donatori a recanati la scuola è senza palestra mariani poca educazione fisica sindaco si muovi e poi vediamo anche quello che accade nella provincia di ascoli e di fermo i disagi del maltempo paura per mamma e figlio un'auto rischia di cadere in una scarpata ci sono dei feriti aziende fuori legge in tema di sicurezza di lavoro è stata combinata anche una maximulta per tre imprenditori e infine alite tegarducci galilei la voglia amata per diventare geometri boom di iscrizioni e siamo sempre nella provincia di ascoli e di fermo questo è un po il quadro delle notizie a carattere regionale allora noi apriamo il giornale vediamo quello che accade a pesaro cercando di dire due parole in più alla notizia che riguarda l'anoressia mia figlia salvata dalla anoressia ma ora quel centro non c'è più è stato chiuso infatti il centro disturbi alimentari di gallantara il quale ha operato molto e molto bene per certi figli problematici problemi di carattere fisico di carattere psicologico che conducono alla anoressia letteralmente non esiste più mentre esistono ancora e sono tantissime le famiglie che hanno questi problemi a parlare e mamma adriana c'è solo il nome una pesarese che ha saputo che l'unica peraltro validissima psichiatra che era rimasta nel centro di gallantara si è presa un anno di aspettativa e al suo posto al momento non c'è nessuno che la sostituisca una carenza un vuoto veramente grave perché queste famiglie lasciate da sole sono allo sbando e rischiano veramente di perdere i loro figli perché senza una guida senza un'assistenza efficace è un problema risolvere questa situazione l'altra pagina è dedicata invece alla rivoluzione delle parrocchie che è stata così programmata dall'arcivescovo Salvucci nomine accorpamenti ecco come cambia il volto dell'arcidiocesi si passa dalle unità alle comunità pastorali da 10.000 abitanti ciascuna le prime quattro sono state già definite con i responsabili e arrivano anche i burocrati vediamo quali sono le prime quattro iniziano subito la loro attività lo vediamo qua in questo trafiletto san martino san paolo è il quartiere di torraccia moderatore don lorenzo volponi santi terenzio e marina di catabrighe santa maria delle fabrecce san lorenzo in case bruciate tre ponti san giovanni in babuce moderatore don massimo regini e poi santa croce san luigi santa veneranda moderatore don mario florio e santa maria assunta di montecchio corpus domini di padiglione san donato in belvedere foglienze moderatore don marco di giorgio don marco di giorgio che ieri durante la processione corso della festa di san terenzio ha avuto la nomina formale di di ex di aiuto vescovo perché veramente ha assunto questa carica importante per tutta la diocesi una carica che da così da giustizia è veramente gratifica don marco di giorgio che è un parroco che ha lavorato tantissimo in modo particolare anche con i pellegrinaggi verso la palestina questi santi di casa nostra il vescovo cita don gaudiano e altri esempi nobili grande la partecipazione dei pesaresi alla celebrazione della festa di san terenzio con la nota processione che si svolge nel centro cittadino con il passaggio dell'urna che contiene il corpo del santo è una processione che si svolge tutti gli anni molto molto così reclamata molto partecipata da tutti i fedeli di pesaro che amano appunto san terenzio ed è stata una festa che ha coinvolto tutta la città vediamo un articolo che riguarda fano a guzzi primo nei sondaggi ser filippi dietro poi c'è brunori si continua a parlare molto in questi giorni dei candidati sindaco la campagna elettorale ormai è prettamente iniziata e ieri c'è stata la prima uscita pubblica dei di uno dei candidati si tratta di giuseppe de leo che opera nell'orbita del centro destra comunque a parte il sondaggio che è stato reso noto nei giorni scorsi che pone tra i favoriti il sindaco a guzzi ma c'è anche se il filippi che lo tallona molto in terza posizione ci sarebbe de leo ma de leo dice non mi interessano i sondaggi farlocchi quello che conta il rapporto con la gente noi andiamo fino in fondo ieri dunque c'è stata una convention al cinema masetti c'erano presenti circa 200 persone e il candidato sindaco de leo ha così parlato molto di discontinuità rispetto all'attuale giunta ha parlato dei problemi emergenti di sanità della variante di gimarra della viabilità insomma insomma i temi più importanti che vengono dibattuti e quindi si è posto all'attenzione degli elettori oggi c'è consiglio comunale a Fano si inizia alle 18 e 30 probabilmente la seduta inizierà veramente verso le 19 ci sono molti molti punti all'ordine del giorno perché la prima seduta a parte quella monografica che c'è stata nei giorni scorsi ma dove si è trattato di un solo argomento la prima seduta di ripresa dopo le ferie estive e si parla di molte cose tra le quali anche la variante che permetterebbe l'insediamento dei frati trappisti in quel di Montegiove a questo proposito sui giornali c'è una presa di posizione degli ex sindaci Cesare Carnaroli e Francesco Baldarelli e Fano Ribella e del socialista Tiziano Busca in quanto dicono che approvare questa variante adesso si porrebbe in contraddizione con la riforma della legge urbanistica che verrà approvata nel mese di novembre dalla regione Marche in quel momento la variante di Montegiove non avrebbe ancora completato il suo iter e quindi sarebbe arrestata e quindi sarebbe inutile approvarla nel consiglio comunale di oggi ovviamente la giunta non è di questo parere e quindi procederà per quanto è previsto nell'ordine del giorno questo per quanto riguarda appunto il resto del Carlino ora diamo un'occhiata al Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata proprio alla convention di De Leo il candidato giusto sono io dice De Leo a Fano adesso serve discontinuità gli obiettivi dell'ex direttore generale del comune aspirante sindaco vengono elencati appunto in questo articolo e poi dice che la fine di Marche Nord quindi del sistema ospedaliero è una sciagura è una notazione importante questa una sottolineatura importante perché la fine di Marche Nord è stata decisa dalla maggioranza e dalla giunta regionale di centrodestra l'orbita nella quale appunto si pone De Leo ma che non è limitata al centrodestra perché poi lui si rivolge anche al civismo competenza per amministrare una città come Fano una virtù che Giuseppe De Leo non riconosce l'attuale amministrazione comunale di centrosinistra tanto che è ricorso ad una ironia sferzante per definire l'operato ora da geni ora da fenomeni così si è espresso ebbene De Leo ha parlato appunto dell'ospedale dice come questo tema dell'ospedale a Santa Croce sia sparito ormai dai programmi del comune della regione quindi insiste perché il Santa Croce venga valorizzato e poi vediamo come parli di un impegno per quanto riguarda i servizi alla persona contesta anche le decisioni che l'amministrazione comunale ha assunto per il dopoambito l'azienda per i servizi alla persona deve restare pubblica ha detto De Leo ma si tratta di un altro colpo di genio si vuole un amministratore unico che dovrebbe gestire da solo 60 milioni di euro ebbene non sembra che questo sia la cosa più valida e poi c'è la variante di Gimarra definito un errore clamoroso siamo per il rispetto dell'ambiente ha detto i 20 milioni sono da recuperare e investire sulla viabilità di Fano Sud questo è quanto dice ma l'importante è veramente recuperare questi 20 milioni perché come vediamo su quest'altra pagina da indiscrezioni che giungono dal Parlamento sembra che il governo non sia disposto a concedere la proroga al comune di Fano perché ormai ha superato i tempi per appunto avere questo investimento di 20 milioni dalla regione a cui poi il comune aggiungerebbe i 5 milioni dal suo bilancio Minardi dice, replica Minardi quale segretario del Partito Democratico è una follia perdere 20 milioni il Partito Democratico chiede al Sindaco di impegnarsi per la proroga non di aspettarla ecco le tre ditte della offerta e il Corriere Pubblico appunto i nomi delle tre ditte che hanno avanzato le loro offerte nella gara d'appalto per il completamento dell'Interquartieri offerte che però sono contenute in una busta che non verrà aperta non verrà aperta fin quando non giungerà dal governo l'atto formale di concessione della proroga allora si procederà a stron battuto passiamo a Marotta passiamo a Marotta dove vediamo che si parla di sport inclusivo si tratta della finale di hockey in carrozzina quando Genova batte i Dolphins Ancona ed è stata consegnata la bandiera Lilla variante trappisti il voto ormai è tardivo abbiamo un articolo sulla pagina del Vancesano che però riguarda Fano e riguarda proprio il consiglio comunale consiglio comunale di oggi pomeriggio Carnaroli, Baldarelli e Busca sulla nuova legge regionale annunciata ebbene dicono quello che ho già detto sfogliando il resto del Carlino passiamo allora a Senigallia comincia il waltzer degli uffici comunali ma il trasloco dei vigili deve attendere polizia locale va all'ex Gil prima però vanno sgomberati gli spazi collegio Pio IX al centro di un restyling è stato rinviato il trasloco della polizia locale in quel di Senigallia previsto per la fine dell'estate in attesa appunto di riorganizzare gli spazi il comando della polizia locale ha detto il sindaco Olivetti deve attendere perché ci sono da spostare altri uffici attendiamo che si liberino gli spazi ma comunque pur non avendo ad oggi una data fissata per il trasloco questo avverrà a breve il restyling del collegio Pio IX in piazza Garibaldi che ospita anche il comando della polizia locale doveva partire finita l'estate dopo quello di Palazzo Bonopera entrambi i interventi sono finanziati con i fondi del PNRR tramite il bando Pinqua a giugno sono iniziati i lavori di Palazzo Bonopera che termineranno nella primavera del 2024 quindi Senigallia ha tutta una serie di spostamenti per dare più funzionalità e più spazi appunto a servizi essenziali come quello svolto dai vigili urbani vediamo ora le pagine di Pesaro dove l'apertura è dedicata a un ritardo che veramente è molto grave è il ritardo dei rimborsi per l'alluvione nessuno ancora tra coloro che hanno ricevuto dei danni per la grande alluvione che c'è stata non molto tempo fa era il 16 maggio famiglie e imprese molte colpite da allagamenti e danni ingenti nella zona di Pesaro l'alluvione del 16 maggio a distanza di 5 mesi nessuno ha ricevuto un centesimo famiglie e imprese dopo i sopralluoghi di maggio non hanno ricevuto nulla regna l'incertezza ebbene questo è un gap della burocrazia della lentezza degli iter burocratici che deve essere assolutamente colmato in provincia sono stati stimati circa 11 milioni di euro di danni 3 milioni 430 mila lo dice appunto questa tabella 3 milioni 430 mila sono stati spesi per interventi di somma urgenza di messa in sicurezza al territorio e questi ovviamente sono stati già spesi poi ci sono altri 7 milioni e 500 mila euro per una prima risposta alle 170 segnalazioni di danni che sono emerse dai cittadini quali sono le zone più colpite di Pesaro sono i quartieri di Catabrighe di Vismara di Muraglia di Madonna di Loreto a distanza di 5 mesi nessuna risposta per i rimborsi è arrivata alle famiglie imprese e i danni provocati sia da allagamenti che dalle esondazioni di fossi e canali di scolo sono ancora lì da recuperare ciclabile in dirittura d'arrivo riapertura per strada Carloni questa importante arteria che collega diversi quartieri di Pesaro circa due settimane per via Fratti poi l'installazione della rotatoria ebbene circa già un po' le prime settimane di ottobre questa situazione dovrebbe essere risolta via Fratti ultime settimane di lavoro sulla ciclabile poi la rotatoria ebbene strada Carloni verso la riapertura però il cantiere della bretella di Muraglia andrà avanti ugualmente ebbene eccola la pagina dedicata alla festa di San Terenzio dedicata dal Corriere Adriatico il San Terenzio operativo di Salvucci di Giorgio Ufficiale di Giorgio Ufficiale appunto come come nuovo incarico e via a quattro comunità ebbene Monsignor Salvucci l'aveva reso noto qualche giorno fa e così è stato le celebrazioni del patrono hanno tenuto un battesimo l'arrivo del suo braccio destro al quale affidarsi Don Marco di Giorgio 63 anni ieri ufficialmente diventato il vicario generale dell'Arcidiocesi per disegnazione di Don Sandro il passaggio del testimone con il predecessore Stefano Brizzi che aveva ricevuto l'incarico già nel 2011 da Monsignor Coccia è avvenuto è avvenuto la solenne festività e qui vediamo un momento di questa consegna di questo nuovo ruolo la folla in processione lungo corso cittadino e il vescovo con il suo vice Don Marco li vediamo qui tra la folla e qui vediamo invece l'urna che contiene il corpo di San Terenzio ed è una bella storia anche di questo santo si potrebbe fare di Pesaro la Salisburgo dell'Adriatico Salisburgo è nota perché ha la casa natale di Mozart Pesaro è nota perché ha la casa natale di Rossini sono due geni due grandi musicisti che hanno quasi contemporanei che hanno dominato un po' la storia della musica durante la loro epoca ebbene sono due grandi due grandi autori impegnati a livello europeo a livello internazionale potrebbero dare lustro entrambi alle due città già Mozart lo dà a Salisburgo e forse qualcosa di più si potrebbe fare per Rossini per quanto riguarda Pesaro di Domenico pensa a un gemellaggio culturale turistico tra mare e montagna ovvero la montagna è Salisburgo e mare sarebbe Pesaro la Pesaro è la Salisburgo dell'Adriatico però insomma che dobbiamo essere la Salisburgo dell'Adriatico insomma diminuisce un po' l'importanza di Pesaro perché Pesaro è la patria di Rossini mentre Salisburgo è la patria di Mozart sono due entità separate che potrebbero ovviamente collaborare insieme ma una non è che deve identificarsi con l'altra sono due entità che hanno una forte personalità entrambe loro stesse e poi vediamo la pagina di Urbino pista ciclabile davanti al Palace e campo per la pratica del golf il sindaco Gambini illustra il programma per potenziare e qualificare gli impianti sportivi cantieri continui nella città Ducale uno dietro l'altro alle Cesane sono iniziati i lavori per realizzare un campo per la pratica del golf nell'ambito del programma del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale il progetto ha un importo complessivo di 276 mila euro e vediamo anche qualche notizia di sport non sono molto incoraggianti quelli che riguardano il Fano Calcio ebbene la partita con il Riccione è andata male anche se il Fano giocava in casa il risultato è 1-0 a favore del United Riccione Alma cuore e grinta non bastano in titola il resto del Carlino il Riccione scappa col bottino pieno il Fano stavolta non riesce a mascherare i suoi problemi offensivi ai Romagnoli basta il gol di Ferrara al tredicesimo Scorsini abbiamo creato molto dice l'allenatore ma loro sono stati bravi una missione corretta e così insomma che fa onore a chi lo dice anche se ha perduto e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento domani sempre alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci l'ascolto Grazie a tutti.